Benvenuti a MeteoGiulianci.it. Dopodomani, domenica 1 aprile, moderato peggioramento del tempo sulle regioni del Medio Alto Adriatico per una debole perturbazione in arrivo dalla Scandinavia e diretta verso i Balcani. Ma vediamo la mappa del satellite virtuale, vedete la perturbazione sui Balcani che lambisce un po' anche le regioni adriatiche. Che tempo allora farà dopodomani bene ancora il sereno su gran parte dell'Italia, a parte un po' di nuvole sulle regioni alpine, nelle zone interne del centro e sulla Sardegna, con isolati brevi temporali pomeridiani sul Trentino, sulle prealpi e lombardi, sulle alpi occidentali, sui rilievi abruzzesi e molisani. Per quanto riguarda le temperature, queste saranno il lieve calo sul nord Italia, sulla regione del Medio Alto Adriatico, ma resteranno comunque gradevoli. Bene, termino qui e vi ringrazio per l'ascolto. Ancora un buongiorno.